Hello everybody, today I'm with Davide, he's an Italian sportman. So Davide, what happened? Accontaci, I'm going to translate something. Allora, ho un problema sulla cervicale, spesso durante gli allenamenti insomma avverto un sacco di dolore, soprattutto quando alleno il dorso ed è un problema che mi si presenta sempre per questo insomma ho cercato una via per trovare una soluzione. Va bene, so it's a cervical issue, we will approach the neck and probably working out it cause something on the trapezius area, so it's the upper back and we're going to check it together. Is it the first time receiving this kind of treatment prima volta che fa questo? Yes, it's the first time. Okay, we'll mix some Italian in English as usual. Relax, perfect, okay. Yes, no worries, it's everything under control. Let me check something else here. Okay. Oh, that's good. Here we go. You see? It's slightly blocked, just a little stuck, just a little stuck, that's fine. I've heard a lot. And well, I've seen that I've had to force a little bit the technique. Now, close your fingers behind your head, that's fine. Now relax. Okay, let me bring up a little more the bed. Yes, I've heard a lot. He's telling that you really felt this technique. Yes, it was a tough one. Relax, that's fine. Okay, good. Lascia far a me, rilassatissimo. Bravo. Abbandonati, eh. Bravo. Ok. Bene così. Ci sei? Yes. Allora, lasciamo un attimo in pace la cervicale intanto che recuperi. Ok. Let's cut some slack to the cervical to the neck, so just turn the side. let's start from here. Bene così. Lascia cadere le gambe, abbandonate anche l'altra. Bravissimo. Abbandona tutto. Eccolo. Ci sei? Si. Allora, grande. Vai. Tenozzalo. Now, drop your legs, lascia cadere le gambe giù svenute. Bravissimo. Oh, perfect. Pariccio. Eh beh, vai. Adesso ho sentito veramente tanto. Si. È la prima volta che fai questo. Si, si, si. Ma io mi sentivo molto bloccato già. Ah ah. Sì. Per esempio. I can confirm. Now, swatni i leggi. Metti le gambe dritte. Bravo. Blewiti le gambe dritte. Relax. That's fine. Rilassato, comodo comodo. Bravissimo. Abbandona le gambe. perfetto bravo bene lascia cadere giù le gambe abbandona tutto eccoci aspetta 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 fermo lì adesso ci siamo l'ultimo approccio era sul palpizio ora ora andremo inizialmente ora andremo al trapezio so the upper back lascia giù le gambe bravissima ok once again ok no worries last one ok and now relax ok 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 good hold your neck bravo tieniti qua dietro chiudi i gomiti tira fuori il mento fatta chiudere le mani no 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 neanche troppo tira fuori il mento dal gol bravo adesso rilassa la testa e rilassa anche le mani non c'è bisogno più di tenerle bravo non avere paura e darmi fastidio you're not going to bother me with your elbows just relax as much as possible si si bravo ok adesso ti puoi rilassare giù le gambe stendile bravo fermo così abbandona no non mi dai fastidio bravo abbandona no più rilassato lascia tutto più morbido bravissimo oh perfetto bravo e rilassa completamente la testa bravo ci sei? ci sei? ci sono ancora una bravo tieniti forte qua più rilassato che puoi ok ok bene ci siamo ti puoi riposare comodo così bracciali con i fianchi bene così testa di lato dove riferisci bravo bene viene un pochino più giù poco poco basta benissimo testa di qua con calma bravo benissimo ci siamo ok ci sei? sì bene mettiamo questa come sotto diciamo bravo solleva di su bravo fermo benissimo scendi giù adesso solleva la testa giù ti rilassi comodo comodo abbandonatissimo bravo abbandonato eh bravo senti la parezza prendi qualche secondo di recupero che questo è pesante eh prima di rimani giocato cosa è successo take your time interessante era molto bloccato il collo molto rigido la parte delle spalle alte e infatti con quel tipo di congestione dopo iniziano i problemi ok sì era un vero staccato sul cervicale e l'upper back quindi dorsal trapezio seria era un vero tough spot per trattare e era bene let's see the results so just sit by the side ok and tell us what's the feedback so what's the sensation how do you feel si allora la sensazione è stata molto molto intensa forte si veramente veramente intensa for him was a a tough approach was a powerful one but was stronger si ho provato molto rilassamento dopo ogni trattamento soprattutto sulla parte insomma della cervicale che era quella che sentivo più bloccata si inizia a get benefits immediately si infatti adesso mi sento abbastanza molto più leggero e e niente adesso sto provando una sensazione di rilassamento e di leggerenza un'importante relief everywhere e di leggerenza insomma su tutta la schiena mi sento sicuramente molto meglio ok trying to stand up ok and to confirm yes it's fine ok so let's say goodbye to our friends 3 to 1 bye bye thanks for watching